L'Axam Flowers ASMR Ciao, benvenuto, benvenuta. Oggi sto usando un microfono nuovo. Spero che ti piaccia. E' un microfono binaurale. Significa che mi posso spostare da una parte all'altra. Oggi voglio fare un piccolo viaggio. Oggi facciamo un viaggio che ho scoperto tanti anni fa con un mio amico. Stavamo leggendo un po' su internet alcune esperienze di alcune persone e abbiamo scoperto che in tanti provavano a ritrovarsi in un posto comune che poteva essere inventato. O magari poteva essere un posto preciso, una piazza famosa, una casa. In questo caso io e il mio amico avevamo scelto un albero verde in una collina. Un albero solitario, lo chiamavo. All'interno di questo percorso meditativo dovevamo concentrarci per ritrovarci ad un certo punto con il nostro corpo astrale, se così lo vogliamo chiamare. Questo è il nome che in tanti danno a quel corpo che vive le esperienze sia nei sogni che nella immaginazione. e noi cercavamo di ritrovarci sotto questo albero e di incontrarci, di riuscire a guardarci negli occhi e l'abbiamo provato per tanto tempo e oggi io lo voglio provare con te. Dopo tanti anni che proviamo, che provo questa tecnica meditativa, questo incontro astrale, oggi lo voglio fare con te. Posso dire di avere imparato molte cose e quindi se ti lascerai guidare dalla mia voce oggi io e te ci incontreremo sotto quell'albero verde. ci sono alcune cose che voglio dirti, alcune diciamo anche legate un po' all'aspetto scientifico, per esempio il fatto che questa meditazione fatta con una particolare attenzione rivolta ai sensi può dare la possibilità di percepire la realtà che ci circonda in maniera molto più forte. infatti non escludo il fatto che domani, nel momento in cui sentirai un odore o toccherai una superficie, percepirai qualcosa di molto più intenso. Alcuni particolari non saranno più trascurati, come può succedere durante la quotidianità. Spesso siamo distratti dalle cose e a volte un esercizio come quello che stiamo per fare aiuta a lasciar andare meno particolari e anzi a sentirli molto più forti, molto più veri. che aiuta realmente ad ampliare i propri sensi, il tatto, l'olfatto, il gusto diventano sensi molto forti. Un altro aspetto interessante è che questo tipo di meditazione può aiutare a le altre meditazioni se avete, se hai delle tecniche particolari che usi di solito sappi che una meditazione come quella che stiamo per fare ti dà la possibilità di essere più presente all'interno delle tue meditazioni e quindi se fino a ieri all'interno del tuo percorso meditativo a volte potevi perderti in chissà quale circostanza o situazione o immagini dopo oggi questa cosa non accadrà più perché dopo oggi le tue meditazioni saranno estremamente coscienziali sarai perfettamente cosciente di tutto quello che succede e quindi io direi che possiamo cominciare prima però voglio spiegarti rapidamente che cosa andiamo a fare nello specifico cominceremo con una respirazione particolare legata alla filosofia di Steiner quindi un respiro dopo l'altro e tra ogni respiro c'è una pausa molto molto più forte per ogni respiro che facciamo per esempio partiamo da dieci respiriamo forte tratteniamo un pochino e poi espiriamo nove respiriamo forte tratteniamo un pochino e ancora un po' e poi espiriamo otto tratteniamo il respiro ancora un po' di più e poi continuiamo così fino a zero nel momento in cui arriveremo a zero tratteniamo il respiro molto più a lungo di quanto non lo trattenevamo a dieci in questo modo sarà molto più facile cadere diciamo in una fase di rilassamento profondo in più ti darò delle immagini da seguire immagini che ti porteranno verso il passo diciamo dentro di te e così seguendo la mia voce costruirò lo scenario intorno a te lasciati guidare dalla mia voce farò in modo che le tue sensazioni possano percepire ogni dettaglio non ti lascerò sfuggire nulla vedrai che questa esperienza sarà molto particolare e ti piacerà tanto finito questo questa costruzione di scenario ti guiderò sotto l'albero e troverai me ad aspettarti sarà lì che ci guarderemo negli occhi e beh arrivato a quel punto le cose si fanno molto interessanti quindi non ti svelo niente andiamo a cominciare chiudi gli occhi rilassati rilassati ancora rilassati sciogli tutti i muscoli inizia ad abbandonare il tuo corpo senti come diventa più pesante meno controllato rilassati ancora rilassati ancora iniziamo a respirare dieci nove otto sette senti come ad ogni respiro il tuo corpo diventa sempre più pesante inizia a immaginare intorno a te una nuvola che ti sta avvolgendo dal basso e continuiamo sei cinque e la nuvola ti porta verso il basso il tuo corpo è quasi scomparsa lasciati cadere verso il basso cadi ancora cadi ancora verso il basso ancora più a fondo ancora più a fondo ancora più a fondo quattro oltre a fondo segui il mio respiro e lascia di cadere ancora più in basso in un sonno profondo questa nuvola che ti avvolge ti protegge Ti accompagna dolcemente verso il basso e respira ancora. Tre. Sempre più in basso e sempre più lentamente l'ascia di cullare. Due. Uno. E la nuvola che ti avvolge ti fa atterrare al mio zero e all'ultimo respiro. Zero. Ora ti trovi in un posto che è come un cantiere. Pronto per essere usato per costruire qualcosa. Adesso ascolta le mie parole e costruisci insieme a me un grande prato verde. Guarda come inizia a crearsi sotto i tuoi piedi e si espande all'infinito un semplice prato verde. Guarda i tuoi piedi e l'erba che attraversa le tue dita. Prova ora a muovere il primo passo. Prova a camminare. Prova a camminare. Prova a camminare. Guarda il prato verde sotto i tuoi piedi. Vedi, senti la sua consistenza. Senti l'erba a tratti umida, a tratti asciutta. Se vuoi, la puoi toccare con le mani e sentire l'erba che scorre tra le tue dita ogni volta che passi la mano. Adesso guarda il cielo in alto e tagli un colore, un colore unico che ti piace. Tagli un colore acceso e guarda come incontra l'orizzonte del prato infinito che hai creato prima. Se vuoi, puoi metterci anche il sole. Guarda dov'è il sole. In questo cielo così vasto. Ora, da qualche parte, in questo prato infinitamente grande, c'è un albero. L'albero è da qualche parte, devi solo trovarlo. Guarda intorno a te e non appena l'hai individuato, inizia a camminare verso l'albero. Puoi sentire anche il vento. un vento dolce, un vento che ricorda l'estate, un vento caldo che ti avvolge mentre tu cammini verso l'albero. E ora, prima di arrivare all'albero, guarda come sei vestito. Guarda le tue mani, guarda le tue braccia, guarda i tuoi vestiti, guarda di che colore sono. se sono colori caldi, o sono colori freddi, se sono luminosi, oppure sono spenti. e controlla anche se hai un cappello. Ora, non appena sei arrivato davanti a questo albero, guarda come è fatto. guarda i suoi rami, guarda le sue foglie, guarda quanti fiori. avvicinati ancora un po' e percepisci subito l'ombra che ti protegge dal caldo del sole e un'ombra riparatoria. quando sei all'ombra di questo albero è come stare a casa, è come stare sotto il tetto della propria casa. tocca con la tua mano la sua corteccia. tocca con le dita le fessure che ci sono. puoi addirittura provare. a cercare un frutto in mezzo a tutte queste foglie. e se lo trovi, puoi provare ad assaporarlo. guarda nel colore, guarda quanto è grande. e ora, dietro questo albero, io ti sto aspettando. sto aspettando te. fai qualche passo verso di me. vieni verso di me. io ti aspetto qui. prendi tutto il tempo che vuoi. prendi tutto il tempo che vuoi. eccoci. eccoci. tu puoi toccarmi. guarda come sono vestito. guarda il colore dei miei capelli. quanto sono lunghi. guarda il colore dei miei occhi. che in questo momento guardano solo te. guarda le mie labbra. guarda le mie labbra. e se vuoi, prova a sfiorarle con un dito. sotto questo albero, io e te siamo al sicuro. non c'è nulla e nessuno che ci può ferire, che ci può fare del male. adesso, insieme, proviamo ad arrampicarci su questo albero e piano piano andiamo fino in cima. senti con le tue mani la cordeccia di questo albero, i suoi rami grandi che sostengono te e me. e con i tuoi piedi nudi percepisci la superficie. guarda intorno a te quanti fiori e quante foglie, e salendo ancora in alto, se trovi altri frutti, puoi assaporarli. sono frutti che servono per guarire. sono frutti benefici. ne basta uno per guarire interamente da ogni cosa, da ogni stress, da ogni ansia. una volta che hai mangiato questo frutto, e ti è rimasto in mano solo il seme. prendi questo seme, e come per magia, mettilo nel tuo petto, dentro il cuore. lascia che diventi un tutt'uno con il cuore, lascia che da questo seme cresca dentro le tue vene un frutteto, e che dalle tue mani, le tue mani, escano frutti. guarda tutto questo, mentre stiamo salendo sopra l'albero, fino in cima. in questo passaggio, tu sei guarito da ogni cosa, da ogni cosa. e io ti sto vedendo, io lo posso testimoniare, tu sei guarito da ogni cosa. e nel frattempo, siamo arrivati in cima, e da qui possiamo guardare l'infinito orizzonte intorno a noi, di questo meraviglioso scenario che tu hai disegnato. guarda in alto, c'è una nuvola che sta arrivando. è la stessa nuvola di prima, è la tua nuvola, che viene a cullarti, per riportarti in alto. lasciati avvolgere completamente da questa nuvola, estraiati su questa nuvola, senti com'è caldo e accogliente, è lì per te. a questo punto, io e te ci salutiamo, e spero di rivederti ancora con me, ma ti accompagnerò, in questa ascesa, con un conto alla rovescia, da uno a dieci. in cui ogni respiro sarà più breve del precedente, partiamo dal primo, molto profondo e molto lungo, uno. due tre quattro e senti il tuo corpo riprendersi e senti il tuo corpo riprendersi piano, 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 cinque sei sette sette otto due tre e i E dieci. Ora che la nuvola ti ha abbandonato, sei di nuovo. Dov'eri prima? Nella tua posizione. Identica a prima e dopo questo breve percorso con me. Io spero che tu possa stare meglio. Spero che domani i colori che vedrai intorno a te saranno più vivi. Le superfici che toccherai saranno più forti o più ruvide o più lisce. E i sapori saranno unici. Su questo non c'è dubbio. Allora a questo punto io ti ringrazio per il viaggio fatto insieme. Spero di rivederti presto.